Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un sacco di news, di leaks, di informazioni relativi ai prossimi giorni di Fortnite. Nel video di oggi ragazzi parleremo dell'argomento che è sulla bocca di tutti proprio nelle ultime ore, la nuova skin che presto sarà possibile ottenere in un modo abbastanza conosciuto su Fortnite. Non mancheranno ovviamente le terremoto news, quindi vi aggiornerò sulla crepa numero 10 che è apparsa anch'essa da poche ore e parleremo di un argomento super incredibile. Un feed velocissimo su Twitter rimasto per pochi secondi che spoilerà nuovamente la nuova arma. Quindi ragazzi voglio ringraziarvi di cuore davvero per utilizzare il mio codice creator XIUDERONE nello shop, taggatemi nelle storie di Instagram così vi posso ringraziare. Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica delle mie live e dei miei video. Ma prima ragazzi, ve la devo fare ragazzi, la domanda importantissima ci tengo un botto ai vostri commenti proprio qui sotto. E la domanda ragazzi è proprio questa, cosa ne pensi del nuovo fucile da fanteria? Mi fa cagare, nel senso, non lo so, cioè colpisci è bagato perché non si vede che hai colpito la gente, non mi sembra preciso, l'ho provato a utilizzare a media distanza, a lunga distanza, non ho ottenuto i buoni risultati, non lo so ragazzi. Quindi, ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ma, ciao ciò le bande e bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a parlare della nuova Skin Iconic, si chiama proprio così. Questa è un'immagine ufficiale ragazzi della Skin che arriverà prestissimo con il nuovo Galaxy S10 Plus. Quindi Samsung rinnova la fedeltà con Epic Games proponendo una nuova Skin super esclusiva. Dopo aver visto quella, la Skin Galaxy, ovviamente avremo la nuova Skin Iconic. Forse ragazzi, agli occhi dei più attenti, sarà balzato allo sguardo una particolarità. Si svela un grande segreto di Fortnite. Beh ragazzi, questa Skin non è altro che una rivisitazione della Skin K-Pop. Come vedete ragazzi, guardate anche semplicemente le mani. Sono messe praticamente uguali, hanno fatto un remake della nuova, della vecchia Skin presente già nei file di gioco dalla Season 4. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa. Ed eccola qua ragazzi, la Skin Iconic. Ma la domanda è, come otterremo questa Skin? Ecco qua ragazzi, tutti i passaggi da fare. Scaricare Fortnite sul vostro Galaxy e dalla cartella di Samsung Galaxy Apps. E ovviamente premere sull'icona, installarlo e aprirlo. In modo che una volta che vi siete loggati, andate nello store dove apparirà proprio la Skin Iconic. E la troverete al prezzo di 0 dollari. Ovviamente è un procedimento che si può fare esclusivamente con il telefono Samsung Galaxy S10+. Però dice, dopo che hai tappato sull'oggetto, ci sarà una notifica che vi chiederà di registrare la vostra carta di credito per i futuri acquisti in app. Adesso sto guardando se potete registrare la skin, la carta di credito. Se invece l'avete già registrata, non dovrete fare altro che cliccare prendi la skin e quindi per 0 dollari vi verrà attribuita. Quindi ragazzi, tutto molto semplice, tutto completamente gratuito. Sono 1200 euro di telefono, però la skin è gratuita. Ma andiamo... Sapete che la... Le terremoto news ragazzi. Quando ci sono le terremoto news io non capisco più niente. Terremoto news ragazzi. Appare da poche ore la crepa numero 10. L'avete vista dov'è ragazzi? Dai ve la faccio vedere io. Eccola lì ragazzi. Appare in un punto molto interessante. Come vedete, nettamente più lontano rispetto a tutte le altre crepe. Potrebbe essere un presagio che per caso la mappa sia tagliata in orizzontale. Beh, diciamo che con questa crepa ragazzi gli orizzonti si allargano davvero di brutto. Vi faccio vedere anche un'immagine un pochettino più dettagliata, un po' più bella della crepa. E come vedete ragazzi, enorme anche questa. Proprio vicino all'autobus ribaltato. Autobus ribaltato che arriva proprio se non sbaglio in questa season. Non lo ricordo se l'hanno spostato dalla vecchia posizione in questa season o nella precedente. Ho qualche dubbio. Però comunque sapete benissimo dov'è questa crepa. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di alcune informazioni relative al drift board. Innanzitutto ragazzi non sto parlando del drift board in... O non riesco... Drift board. Mi viene da sputare. In game perché lo abbiamo già utilizzato. Lo possiamo ancora utilizzare. Ma nella modalità tempo limitata drifting. C'è stato un problema col drift board. Non vi faccio vedere che cos'è. Ve lo dico. Praticamente ragazzi c'era la possibilità di utilizzare il drift board e di rimanere invulnerabili. O meglio, potevamo essere atterrati dagli avversari. Ma avevamo la possibilità di ritirarci su. Io ho visto dei video che lo mostravano. Era una cagata pazzesca. Come al solito. Epic Games non è, come si dice, lontana da mettere su i bug incredibili. Che ovviamente gli utenti non perdono tempo di sfruttare. Tolta questa modalità, molto presto comunque ragazzi. Non preoccupatevi che ritornerà. Ma eccola ragazzi. Una delle immagini più interessanti del video di oggi. Questa è un'immagine ufficiale. Apparsa per meno di 30 secondi nella pagina twitter ufficiale di Epic Games. Si chiama Flame Dragon. Se non ho capito male. Ed è un'arma di salva il mondo. Non è detto che poi non venga portata sul Battle Royale. Dubito in questa versione. Ma comunque un'arma che potrebbe essere... Un fucilozzo a pompa super cattivo? Non lo so. È veramente molto interessante come arma. Bellissima. Se devo dire la mia è il design. Davvero davvero tanta roba. Come vedete reca sulla parte della canna dei loghi giapponesi, cinesi, quello che sono. Non lo so. Quindi ovviamente Dragon, Fire, Fuoco di Drago. Si sta sempre a parlare della Cina, del Giappone. Insomma. Penso che sia più della Cina. Arma che molto presto arriverà su Save the World. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di alcune... Di una novità per quanto riguarda la skin Honor. Quindi la Honor Guard. Una skin che sapete benissimo. È ottenibile solo ed esclusivamente con il... Con l'Honor 10. Se non ricordo male il tipo del modello del telefono. Cosa era successo ragazzi? Ve ne avevo già parlato un po' di tempo fa. Un leakers americano. Aveva rilasciato centinaia di codici. E quindi da un momento all'altro nel giro di due ore. Quelli di Epic Games si sono trovati centinaia di player. Che avevano la skin Honor. Io non sono riuscito a prenderla. Porca miseria. Ero lì durante l'evento. Stavo guardando. Ma meno male perché so che hanno fatto delle sanzioni. Beh ragazzi avevano disabilitato. Ovviamente la possibilità di ottenere la skin. Sappiamo ragazzi che il prossimo lunedì il 25 febbraio arriverà nuova... Monday 25 febbraio... Sì lunedì 25 sarà di nuovo possibile riscattare la skin per tutti i possessori del telefono. Beh ragazzi io le news anche per oggi ve le ho dette. Siete aggiornati con il mondo riguardante Fortnite. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! Ciao! Ciao!